maria saluta di ciao ciao cinzia saluta da un bacio ecco la pecorella apposta che devo che ho fatto la colomba la colomba ho fatto la pecorella lo devo infornare al forno e devo fare sia la colomba che l'anello dal cioccolato si anillo e anillo dovevo mettere il forno questo l'ho fatto io con le mie manine tornare informare quanto devo mettere questo è la ricetta questo è la ricetta ecco quanto devo mettere forno calcio 180 per 30 minuti se il forno è caldo e alti 20 minuti o 160 se il forno è statico per una mezz'oretta deve stare nel forno noi ci vediamo dopo ciao